Buongiorno dalla redazione del TG2000, andiamo subito a conoscere i titoli principali delle notizie di oggi. Il Premier Conte in Parlamento nel pomeriggio per chiedere la proroga dello stato di emergenza coronavirus, stasera invece riunione del Comitato Interministeriale sul Recovery Fund. La pandemia nel mondo record ancora negli Stati Uniti con oltre 4 milioni di casi, ma Washington annuncia un vaccino per l'autunno. Aumentano i contagi in Asia, tanto da far temere una terza ondata. Scuola a settembre, tornano i medici scolastici, test sierologici a campione sugli studenti, isolamento fiduciario per le classi compositivi. Questo prevede una bozza governativa. L'amministrazzolina tra poco illustrerà le novità alla Camera. In primo piano allora la politica. Conte chiederà oggi al Parlamento la proroga dello stato di emergenza da coronavirus che sarà votato prima in Senato e poi domani alla Camera. Sul Recovery Fund i tempi stringono. Il piano nazionale delle riforme va presentato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi. Settimana ad alto rischio per il Governo alle prese con i numeri alla Senato piuttosto risicati. Nel pomeriggio a Palazzo Madama il Presidente del Consiglio Conte cercherà di ottenere il sì dei senatori alla proroga dello stato d'emergenza fino al 31 ottobre, mentre domani il Parlamento si pronuncerà sullo scostamento di bilancio altri 25 miliardi fondamentali per pagare casse integrazioni e sussidi. Giovedì poi il passaggio forse più incerto quello sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda della nave della Open Arms. Iniziato invece il Consiglio dei Ministri in serata prima riunione interministeriale sulla gestione dei soldi del Recovery Fund. Si vuole accelerare anche perché resta da affrontare l'emergenza economica. I fondi che arriveranno sono imponenti e le emergenze tanti adesso e molte le manifestazioni di piazza che da giorni segnalano il disagio di categorie di lavoratori. Oggi è la volta degli ambulanti che chiedono di tornare a lavorare nelle sagre e nelle feste patronali. Personalmente non so come devo fare perché la roba l'ho acquistata prima a mese di febbraio, ancora non sapeva che c'era e l'ho acquistata con la speranza che poi durante la stagione venivano le fiere e riusciva a vendere zaini da scuola. Io vendo questa roba qua. Non è mai iniziata qua quest'anno. E' dato quei 600 euro una volta e 100 euro altra e poi non abbiamo visto niente. In questo momento la coesione è più fondamentale che mai. La pandemia ha dimostrato che possiamo trovare risposte convincenti alle conseguenze economiche e sociali della crisi soltanto se restiamo uniti. E quanto affermano i presidenti d'Italia e Germania, Mattarella e Steinmeier, in una lettera congiunta ai sindaci dei comuni italiani e tedeschi gemellati. Desideriamo incoraggiarvi personalmente a fare tesoro delle esperienze fatte durante la pandemia, sottolineano ancora i due presidenti. E in Italia sono in calo i casi di Covid-19. Per contenere meglio la diffusione del virus si intensificano i controlli sui rientri dall'estero e sul mancato uso delle mascherine nei luoghi pubblici al chiuso. Non mancano polemiche e inchieste giudiziarie. Il punto con Caterina Dall'Olio. Mentre si cerca di capire se arriverà o meno una seconda ondata a ottobre e se sì di che entità sarà, non si risparmiano l'energia a stanare eventuali colpevoli di gestione improprie della prima emergenza. L'inchiesta in Lombardia assume contorni sempre più sconcertanti. Niente dimissioni per il presidente della regione Attilio Fontana. Nonostante l'ultimo tassello del puzzle con il tentativo di bonifico all'azienda del cognato per l'ormai nota fornitura di camici effettuato dal conto offshore del governatore Lombardo, si è risultato talmente sinistro da essere bloccato con tanto di avviso a Banca Italia. Il Consiglio regionale è in subbuglio ma per adesso tutto rimane come prima e i PM proseguono le indagini. Il saluto col gomito è la fine della specie umana. Ieri si è materializzata per la prima volta in Italia quella che è stata ribattezzata dai giornali questa mattina, l'affronda negazionista o la brigata No Mask, niente mascherine. Sarebbero inutili per Matteo Salvini e altri parlamentari riunitisi ieri al Senato per un convegno di approfondimento sul Covid-19. C'era anche il cantante Andrea Bocelli tra di loro e la risposta non si è fatta attendere dal Ministro della Salute Speranza che ha subito richiamato un atteggiamento responsabile nei confronti di un pericolo sanitario non ancora esaurito e i dati lo confermano. La curva dei contagi è stabile, nonostante i dati di ieri siano sempre influenzati da un numero di tamponi inferiore effettuati nel fine settimana. I controlli infatti si intensificano soprattutto nei luoghi di vacanza e in quelli di arrivo dall'estero. Ed ora andiamo a scoprire qual è la situazione dell'epidemia a livello mondiale. In testa alla classifica ci sono gli Stati Uniti che avviano la sperimentazione di un vaccino sui volontari sani, ma preoccupa anche l'Europa e ci sono timori per la terza ondata nei paesi asiatici. Ci riferisce Maurizio Dischino. È possibile un vaccino anti-coronavirus nel prossimo autunno. La cosiddetta sorpresa d'ottobre non è stata esclusa dal virologo americano Anthony Fauci. Ieri alla presentazione dell'avvio della fase 3 della sperimentazione del vaccino, Fauci ha anche espresso cautela sostenendo di non poter garantire il successo. Ma le premesse sono buone, ha aggiunto il virologo di fiducia del presidente Donald Trump. La speranza di un vaccino in tempi più brevi è arrivata nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno registrato 57 mila nuovi casi di Covid-19, che hanno fatto arrivare il dato nazionale a quasi 4 milioni e 300 mila contagiati, di cui 148 mila deceduti. Secondo la Johns Hopkins University, nel mondo i casi accertati sono arrivati a 16 milioni e mezzo e i morti a 654 mila. Il presidente americano Donald Trump ha esortato i governatori ad aprire gli Stati che non stanno aprendo. Ma le aperture di Trump sono in controtendenza rispetto alle decisioni di diversi amministratori locali. Infatti, nello stato del Kentucky sono state ordinate la chiusura dei bar e lo slittamento ad agosto dell'apertura delle scuole. In America Latina il Brasile si avvicina ai 2 milioni e mezzo di contagiati. In Asia ora preoccupano le situazioni di Hong Kong e Vietnam, oltre ai 68 nuovi casi in Cina. In Europa e il Belgio ad imporre coprifuoco e mascherina nei luoghi pubblici, in seguito ad aumenti di casi di coronavirus. Torniamo in Italia. Sono iniziati trasferimenti di migranti dai centri di accoglienza siciliani, maggiormente sotto pressione, in particolare da Porto Empedocle, dopo la fuga di massa di ospiti di ieri. In arrivo anche personale militare per presidare le strutture. Tutti i dettagli nel servizio di Pierluigi Vito. Sono iniziati trasferimenti di migranti dalle località della Sicilia, messe maggiormente sotto pressione dagli ultimi sbarchi, a cominciare da Porto Empedocle, dove in oltre 500 erano ospitati in una tensa struttura da 100 posti, da cui in molti ieri avevano tentato la fuga, per poi essere quasi tutti ripresi dalle forze dell'ordine. Ora verranno smistati in altre strutture, sempre all'interno dell'isola. Al via le stesse procedure anche per Lampedusa, dove nella notte sono approdate altre 128 persone. Ce ne sono ormai quasi 900 nell'hot spot di Contrada Embriacola, quasi 10 volte la capienza limite. Entro oggi almeno in 200 dovrebbero essere trasferiti con destinazione ai centri di accoglienza in Molise. Si prova così a disinnescare un'emergenza che vede soprattutto la Tunisia come principale punto di partenza. E lì si è recata ieri la ministra e l'interno la Morgese per offrire l'aiuto dell'Italia e la sorveglianza delle coste tunisine insieme a progetti di cooperazione economica. Sempre la titolare del Viminale ha promesso al presidente siciliano Musumeci l'invio dei militari per operazioni di controllo del territorio e una nave quarantena per ospitare i migranti e monitorarne le condizioni di salute. Intanto si è risolta la vicenda delle 95 persone a bordo di un'imbarcazione partita dalla Libia e che rischiava di affondare. Sono state recuperate dalla Marina di Malta e sbarcate al porto di Senglea. Ma già arriva dall'armafon la notizia di una nuova situazione critica con 17 migranti, tra cui tre bambini, su un natante in pericolo a largo della Libia. Alle 7 di questa mattina si sono persi i contatti e non si conosce la loro posizione esatta. Si tornerà a scuola il 14 settembre, ma con precise regole da osservare. Previsti medici di sorveglianza e testa campione sugli studenti volontari. Ma cosa accadrà in presenza di casi positivi al virus? Sentiamo Alessandra Camarca. Test sierologici su base volontaria, misurazione della febbre prima di entrare in classe e poi in cattedra si va con la mascherina. Sono solo alcune delle misure di sicurezza previste per il rientro a scuola a settembre. In base alla bozza d'accordo con i sindacati, il personale scolastico potrà sottoporsi su base volontaria e gratuitamente al test sierologico e poi se necessario al tampone. Sugli studenti i test saranno effettuati a campione, periodicamente, ma non all'interno degli istituti. Per quanto riguarda la mascherina, per il momento dovranno indossarla tutti, ad esclusione dei bimbi della materna. Ma gli esperti decideranno a fine agosto se togliere l'obbligo agli studenti. Solo per munirne gli insegnanti, la spesa ammonta 100 milioni di euro. Tutto il personale scolastico sarà sottoposto ogni giorno all'ingresso alla misurazione della temperatura. Con 37,5 non si entra. Ogni scuola avrà il suo medico di riferimento scelto dall'ASA territoriale. Il Ministero dell'Istruzione chiederebbe ai beni culturali la disponibilità di spazi come musei, teatri e biblioteche. L'obiettivo è rispettare il distanziamento ed evitare assembramenti. Nei corridoi ci sarà la segnaletica a terra per seguire i flussi. Gli orari di ingresso, uscita e della mensa potranno essere scaglionati. In presenza di un caso positivo sarà il medico competente a rilevarne l'allarme e allertare l'ASA di competenza. Su cosa fare? L'ipotesi è seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Isolamento fiduciario della classe per 15 giorni con lezioni a distanza. Secondo le stime, per aprire cancelle in tutto il paese servono oltre 85.000 insegnanti e 21.000 collaboratori. E sempre a proposito di scuola, in questo momento la Ministra dell'Istruzione, vedete, Lucia Azzolina sta tenendo alla Camera l'informativa sull'avvio del prossimo anno scolastico. Guardate le immagini in diretta da Montecitorio. Tutto il governo è unito per la ripresa, ha detto poco fa la Ministra, confermando l'inizio delle elezioni per il 14 settembre. Cambiamo pagina, una sentenza che fa discutere quella che ieri sera ha emesso il Tribunale di Massa Carrara. Assolti Mina Welby e Marco Cappato dall'accusa di sigazione al suicidio. Il caso è quello della morte di Davide Trentini, malato di Sla, accompagnato in Svizzera a togliersi la vita. Ci spiega tutto Leonardo Possati. Una sentenza che potrebbe spalancare le porte a un'eventuale legge sull'eutanasia è al radicamento di un falso e pericoloso principio di autodeterminazione secondo il quale la vita è un bene, di cui ognuno può disporre come vuole. Il diritto al suicidio come diritto di libertà, massima espressione dell'autodeterminazione dell'individuo. E' questo l'inquietante principio sul quale poggia la sentenza di assoluzione per Marco Cappato e Mina Welby emessa dalla Corte di Assise di Massa. I fatti, Davide Trentini, 53 anni, dal 1993, malato di sclerosi multipla, incurabile e progressiva che gli procura dolore intenso al punto che la ASL gli riconosce il diritto a cure con la marijuana e l'oppio. Il 13 aprile del 2017 è stato accompagnato al suicidio in una clinica di Basilea in Svizzera dove lo hanno portato Marco Cappato e Mina Welby. Poi i due si sono autodenunciati e sono andati al processo per l'istigazione e l'aiuto al suicidio. E' lo stesso schema utilizzato per i casi di Fabiano Antoniani e Pier Giorgio Welby, ma c'è una differenza. Trentini non era tenuto in vita da macchinari. E qui sta il punto. Il processo mirava a cancellare quest'ultimo paletto tenuto in piedi da una sentenza della Corte Costituzionale secondo la quale, per aiutare al suicidio, la persona malata deve, tra le altre cose, essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Quindi la Suprema Corte negava l'esistenza di un diritto al suicidio, ma lo riconosceva solo in presenza di determinate circostanze. E adesso la sentenza di massa cambia di nuovo tutto. Perché Trentini aveva deciso di morire e per farlo ne aveva parlato con Cappato Welby. Il suo obiettivo era stato raggiunto senza lo spegnimento di nessun macchinario, né, tanto meno, verifica da parte di medici o strutture sanitarie. Un amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo è morto ieri sera nella sua casa sul lago d'Orta, a provincia di Novara, l'attore Gianrico Tedeschi, decano del teatro italiano. Aveva compiuto 100 anni lo scorso 20 aprile. Nato a Milano nel 1920, Gianrico Tedeschi aveva calcato le scene per 70 anni. Una lunghissima carriera iniziata in un campo di prigionia dove era stato deportato perché si era rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale di Salò. Gianrico Tedeschi ha lavorato con i più grandi registi, da Visconti a Streller a Ronconi, ma è stato anche molto noto del varietà e della pubblicità in tv con Carosello. E ora vi mostriamo le immagini della nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, a largo dell'arcipelago Campano. Il comandante della nave, il capitano di Vascello Gianfranco Bach, che ha omaggiato la cittadinanza di Ischia sonando al pianoforte, come sentite in sottofondo, un brano di Pino Daniele Napulè. Ecco, ascoltiamo insieme. E con le note di Napolè vi saluto. E tutto con le notizie vi lascio a terza pagina. Prossimo appuntamento con il telegiornale alle 18.30. Grazie per la vostra attenzione. Buon proseguimento di giornata e buon pranzo.